Si! Il gente guarda? Allora! Hai visto? Si! Mi porto una lunghina! E' quando Roby si diverte! Un salto percorrere! Allora? Oh, ci s'attende lì? Bisogna pian pianino cercare di farglielo passare questo vizio perché... È vero, è una cosa buona. Carezza lì da coda, eh? Niente, non ti fa niente, non ti fa niente. Ma che nella... ma no, buscate, no. No, non è abituata, se non l'ha mai toccata la coda. Ma che cosa fa ogni tanto? Fa così, fa... E scalcia poi! Non deve essere tutti i gasi di far così. No, non ti fa niente, non ti fa niente, non ti fa niente. No, non ti fa niente, non ti fa niente. Ehm, ehm, ehm... Ah, vabbè lì, vabbè lì, l'ha visto. Devo continuare eh? No, ma poi lo devi continuare... Eh sì, eh, forse. No, no, ma tu... Però stanno dietro laterale, laterale. Quindi più corto? No, no, ma laterale è anche un po' più lungo. Forza! Forza! Vai! Ora la fermo, eh. Oh! Oh, bravo! Ecco, quando sono fermato, appena sei fermato, lascia il suo. Ti senti fermato? Cioè praticamente la testiera è uno strumento che... Ora ti lego, eh, Icaro. Vieni qua, Icaro. Ha la colla in mezzo alle gambe, la vedi? Eh, lo so, all'inizio lo fanno. Sì, eh. Eh. Ma è bravissima, Berni. Eh, l'ha capito subito che... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mettiti giù lì, fermo, mettiti giù, Jack, giù bene, e stai lì, eh, fermo. Anche con la voce, hai sentito me l'incitava Roby, ma che bella la mia Lolita, se dire la coda, pianino la coda, ecco, questo è essenziale. Sì, ma di fatti la devo alzare, eh, Lolli come sei brava, com'è brava la mia Lolli, ma guardala. Dai, comincia a girare, dai Lolli, su, bravo, bravo, vedi, ti da retta? Vedi, capire che è un mezzo di comunicazione, non un mezzo di... Pianino, pianino, eh, prima di fuori, ecco, fuori, piano, piano. Brava, bravissima, brava, brava. Eh, beh, insomma, ragazzi... Ci vuoi pazienza. Brava sei, ma è bravissima, eh. E' come uno si comporta nei fronti, è come si... Ma la Mora è stata qui la Mora? Sì, eh, si divertiva un poco. mandala, mandala, vai Lolli, vai forza forza Lolli, su vai, forza, vai, forza vai, forza vai, vai come è lo zoccolo dietro? è buono, è buono, è buono vieni qua ora lo leggo è buono, è buono, è buono allora 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 vieni qua allora vieni qua vieni qua Icaro, vieni qua vieni qua vieni qua Icaro allora vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ma sei impazzito vieni qua però non attirarla no mh io ci voglio salire vieni qua 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 qui c'è un sasso, c'è un coltello, c'è niente poi questo bisogna stare attento perché se ne rimani i piedi attraverso in su allora a te tu la carezzi e devo spottirglielo giù questo stai facendo adesso vedi? gliel'ha messo bene perché in questi giorni gli abbiamo toccato la coda ora dopo mi avvicino ora hanno messo una panciotta poi una rosa vedi capito? essere in questo recinto è un grosso vantaggio è un telefono questo ma questo è un fenomeno è un fenomeno cacaone Bernie è un fenomeno, ha avuto puntissima paura ma puntissima cioè veramente ogni animale è particolare allora ne metti poi un'altra rosa la maggior parte l'hai in fondo poi il resto è un po' dappertutto vai forza vai sei bisogno la voce, bravo dolly allora scusa posso fare una domanda ora lui ha fatto così non è fare così ha anche strattonato eh non lo deve fare eh non lo deve fare eh sì eh se tu ti dico eh sì eh sì bravissimo 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 si ma se il nostro atteggiamento cambia cambia anche il suo di atteggiamento bravissimo madonna bravissimo ma pensa da ieri allenta la presa apri la mano apri la mano sempre la mano aperta sempre sempre aperta è una preda capito vai 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 guarda sta andando con la presa normale eh non sta andando una presa la presa punto dico non ha paura di nulla questa bestiolina ma perché ho voluto provare a mettergli la cabeza no 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 chi è? no 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 che gioco no vieni Giacomo poi si mette anche il carretto piano piano Giacomo bravo vieni qui no ma l'essenziale è che io ho avuto di acqua vieni Giacomo vieni Giacomo vieni Giacomo vieni Giacomo vieni Giacomo vieni Giacomo bravo Giacomo bravo Giacomo vieni Giacomo vieni Giacomo c'è un po' Grazie.